Buona giornata a tutti. Allora, oggi vorrei parlare di un argomento, il sogno, sognare. Proviamo a chiudere gli occhi e lasciarci andare, svuotare la nostra mente, lasciarci andare sul sogno. Che bello sognare. Togliamo via tutto quello che pensiamo dalla mente, proviamo ad andare verso il mondo del sogno. Guardate, che bello, c'è vascello di Capitanoncino, Peter Pan ci sta aspettando, saliamo sul vascello, c'è Campanellino. Un mondo pieno di gioie, un mondo pieno di allegria, fantasia, senza pensieri. Che bello. Sognare, rimanere un po' bambini ogni tanto. Degli eterni Peter Pan. Lascerci tutte le cose, tutti i pensieri dietro. Che bello. Però purtroppo, ad un certo punto, bisogna abbandonare nel mondo dei sogni, un'altra dimensione, in cui uno starebbe sempre lì. Però bisogna riprendere poi gli occhi. E purtroppo tornare nell'altra, nella realtà, nella stessa, nei pensieri, nei cosi. Ma se c'è l'allegria e il volersi bene in tutto, si può richiudere gli occhi e ritornare al mondo dei sogni. Ciao, un abbraccio a tutti voi. Grazie. Grazie.